2, 1 3 Bella tutti i ragazzi, sono Drake Clan E benvenuti in questo nuovo video Useremo le resti, perché c'è un magic deal E io ho la recuta di più Perché sono scemo Perfetto Bella tutti i ragazzi, sono Drake, insomma 3v2 contro Drake e Medincina Sono fatte Ciao La Drake e Medincina alla fine cos'era, non l'ho visto Ehm, so, ha uno che si finge Che ha fatto uno Sì, è brutto non avere Drake, ma dove sei? Non ci vedo più Sono recuta E lui aveva il pulso Vabbè, dai, hai sbagliato Aiuto, che facevo io, sai di più Raga, c'è Drake Che ha fatto la scena, guarda il bagno Stoglione Prendete il contenitore di biorischio Attenti a Drake A Drake, a Drake A Drake, non a Drake Cos'è, come, come parlo io oggi Guarda, cosa ci può trattare Ecco Ecco Dove che c'è, Drake, arriva No, so che scherzo ha fatto Drake No, non ci, no Voi mi c'è, Drake Ma posso morire, Felice Come voglio, Felice Guarda di Wolverine No Non l'avevo visto Drake Ma che cazzo di stabilità dell'arma Io ho capito che c'è un diamante, una ninja Il rincuno non si vede Guarda, guarda Non si vede Io con l'arma più stabile del mondo Non ce la faccio Arriva lui Che con l'arma di Termite Ovviamente fa un casino assurdo Arriva lui Il rincuno non si E' roba del genere Dovresti fare un tipo di fare Non ci può cazzare Tra la sua minchia No, Drake Drake, dove c'è? Allora, come ci vuoi? Ma per favore Per favore, fammi Vai, Drake E poi c'è anche io Drake Ma io Meno male che avevate detto Che guardate tutti i miei video Soprattutto tutti i miei spanchi Lo porco Giuda Gli operatori alleato rimasto Gli hanno scoperto Torna indietro È lì No, no Drake Dove ti ho messo Stringere io Cucina No Oh No Vabbè la prossima volta Mi riguarda Perché io per l'ultimo Perché io ho le cuffie Del loro spin Zitti Però Ragazzi 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 ma io sono quelli belli brex è illegale è illegale e aspettato aspettato aspettate ad entrare aspetta che buona puccio perché sono un cane ottimo sono andrea non ci credo raga raga dobbiamo vincere io so che sono andata al chien no no che c***o di verde acciai Drake un pò di commenti per favore ho capito che già siamo noi ho capito che siamo andati ma no ma che c***o c'hai però oh ma c***o ma a destra non l'ho sentito ma va che c***o oh signor però non ti l'hai che aveva anche break quindi sono forse si vabbè si è stata inutile per una volta mamma mia hit by ha fatto via perché sei mesi in più due e un due rovesciato grazie Drake ci avrei che non ho capito padre si è una bella e che poi abbiamo classificato dopo questa ragazza deve andare via che deve andare in live ma dove su play se l'altro giorno ha fatto no ma poi direi che tipo facciamo altre partite o basta basta caro mio ma c'è detto che devo andare a vedere allora ragazzi non possiamo farci fare un break ti prego non morire non lo fai per a me ciao vittoria 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 quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate like un commento iscrivetevi al canale se avete fatto noi ci vediamo avanti nel prossimo video salutate drake drake ciao ciao amici ciao ciao mamma ciao mamma ciao mamma